dalla cucina di squisitaly vi presentiamo la box insolito pesce un menù a base di pesce che potrai preparare a casa tua per te e i tuoi amici con i segreti della nostra chef debora fantini e un dvd con la preparazione delle ricette imparerai ad utilizzare prodotti professionali di qualità come brodo per frutti di mare knorr crema per tiramisù cardor buccia di limone liofilizzata viberg potrai cucinare una cena con quattro portate squisita anzi squisitaly